La Nutella festeggia i suoi primi 50 anni. Era la primavera del 1964 quando dallo stabilimento di Alba usciva il primo vasetto di Nutella. In mezzo secolo è diventata la crema da spalmare più famosa al mondo. Con una quantità di 365.000 tonnellate vendute, Nutella è oggi disponibile in oltre 100 paesi. Per celebrare il compleanno della famosa crema alle nocciole sono previsti numerosi eventi. Ieri a Roma è stato presentato il francobollo commemorativo, mentre domani prendono il via ad Alba, patria della Nutella, le celebrazioni ufficiali e il 18 maggio a Napoli è previsto un grande concerto. Ma i festeggiamenti saranno un po' in tutto il mondo. Tra i più stravaganti quello a Dubai, presso il Dubai Mall, dove per un'intera settimana verrà installata la Nutella Story Machine. Un barattolo alto circa 4 metri dove ciascuno potrà inserire la propria storia in un vasetto vuoto di Nutella e riceverne in cambio uno nuovo personalizzato.